C'è una serata nel nostro festival che ha un titolo che potrebbe sembrare anche molto allettante, credo, una notte balinese, una notte a Bali, non è che prendiamo il pubblico e lo trasferiamo laggiù, no, abbiamo più semplicemente fatto venire da Bali dei musicisti, che vuol dire dei suonatori, dei danzatori, degli attori eccetera, che ci costruiranno una serata speciale, l'abbiamo chiamata serata balinese ed abbiamo dedicata la memoria di Antonin Artaud, questo grande scrittore francese, perché Artaud ha scritto un libro a suo tempo celebre proprio sul teatro di Bali, ma questa serata è anche dedicata a Debussy, al ricordo di Claude Debussy, che conobbe le musiche balinesi a Parigi nel 1889 in occasione dell'Expo che fu organizzata allora a Parigi, fu un Expo importantissimo, potete capire, era a Parigi, era all'89, era 100 anni dopo la rivoluzione francese, era un grande anniversario e quindi l'Expo aveva i padiglioni un po' di tutto il mondo di allora e fra questi ce n'era uno appunto dedicato a Bali, Java, che allora vorrei ricordarlo erano delle colonie olandesi. Questa orchestra balinese ha la caratteristica di essere un gamelan, parola che non tutti conoscono ma si può spiegare, è un'orchestra di metallofoni fatta soltanto di strumenti di metallo che vengono percossi. Si va da un gong molto grande, la cui conferenza è un po' credo più grande delle mie braccia allargate, forse anche un pochino di più, un grande gong con un bordo molto alto, molto spesso che manda un suono profondissimo e poi altri metallofoni via via più piccoli, da quello più grande, un po' meno, un po' meno, si arriva fino a dimensioni quasi di campanelli, eccetera. Ora questi strumenti producono dal punto di vista timbrico delle sonorità straordinarie, ma il miracolo dell'orchestra gamelan è il ritmo, perché ad un colpo assestato su questo grande gong, che fra l'altro adesso vi cito un po' a Tegolezzo, farli venire da Bali o da Java è un problema, è difficilissimo, bisogna superare una barriera spirituale, nel senso che questo è considerato un oggetto sacro, come se avesse un'anima, come se fosse una creatura vivente, quindi bisogna non solo impacchettarlo, ma metterlo in confezioni speciali, dedicare di tutte le cure del mondo. Comunque, gli dicevo che questi metallofoni suonano con un sistema di multipli per quanto riguarda il ritmo, quindi ad un battito del gong più grande, molto rado, sono molto diradati, ne corrispondono due di quelli subito un po' più piccoli, quattro di quelli ancora, e questa serie di multipli, sempre per due, si va da 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e così via, non così via fino alla fine, ma insomma si arriva a 254. Questa stratificazione di multipli dei battiti di metalli che hanno un timbro diverso e una frequenza diversa, perché man mano si sale verso l'acuto, crea veramente qualcosa di straordinario. La struttura è semplicissima, come vi ho detto, però il risultato è magico, c'è una specie di moltiplicazione degli strati sonori che colpi a fondo Debussy. Debussy fu folgorato da questo e ci mise molti anni a assimilare questo concetto così complesso, ma dopo una quindicina d'anni questo poi si riverberò sulla sua composizione, poc'anzi parlando di Debussy dicevo che ci sono ancora degli aspetti misteriosi nella costruzione di Debussy, uno di questi viene da questa stratificazione così complessa dei ritmi che si sovrappongono, noi non ce ne accorgiamo, ma sentiamo questa specie di fasce ritmiche e sonore che si sovrappongono in maniera molto armoniosa, qualche volta con lievi sfasature, poi questo è fatto di niente, è fatto di semplici battiti, però il risultato è la magia, veramente il miracolo del suono, naturalmente questo viene accompagnato poi dalla danza, da una gestualità particolare e così via, insomma questo è quello che abbiamo cercato di fare per ricordare con la notte balinese Antoine Harteau che ne fu lo studioso più appassionato e Debussy che è stato l'artista che più profondamente è stato influenzato da queste cose. Grazie. 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 Grazie.